Ehi là! Ciao a tutti e benvenuti sul canale! Questo non è un video solito della nostra giornata o di qualcos'altro, è solamente un video di saluto e di augurio per un buon weekend di Pasqua. Che dire, anche quest'anno purtroppo siamo prigionieri, diciamo. Siamo obbligati a stare a casa, a meno che chi non ha avuto la fortuna di andare all'estero. Quindi siamo tutti chiusi a casa. Dico siamo, perché anche io e la Lucy da un paio di giorni a questa parte siamo tornati a casa. Io ho avuto due lavori e per chiudere il mio lavoro, perché devo realizzare dei video aziendali, ho bisogno del 220. L'inverter mi dà problemi e quindi non posso lavorare. Allora, finché devo fare dei video per YouTube, li uso l'iPad con il 12V, faccio. Qua ho bisogno del 220 per far lavorare i computer e purtroppo l'inverter mi dà problemi. Quindi siamo, restiamo a casa anche per questo che sono attaccato alla linea del 220. Anche perché andare dentro in un'area sosta e pagare 17 euro, adesso che i soldi ce ne sono pochi, non è il caso di spenderli. Quindi, siamo venuti a casa, stiamo bene. Adesso Lucy è dentro in appartamento, vi dà i suoi saluti e vi fa gli auguri. Sta sistemando un po' di cose, perché abbiamo svuotato il camper, perché una volta ogni tanto è giusto svuotarlo. Lo rimettiamo in sesto la prossima settimana, probabilmente. A meno che non c'è una grossa novità, che ve la racconto più tardi. E torneremo a partire. Qualcuno dirà, non si può viaggiare, siamo in zona rossa. È vero, ma ho dei lavori da svolgere e devo essere sia, lo posso fare da remoto e in presenza. E quindi ci dovremmo spostare, dovremmo spostarci forse nelle zone dell'Emilia Romagna e qua in Friuli. Adesso vediamo come arrivo, sperando che sia una leggera ripresa nel lavoro. Anche perché, oltre l'atto economico, devo dirvi la verità, che comincia a pesare il fatto che non sono anche presente sul mio lavoro in mezzo a tante persone, in mezzo agli eventi, fiere o quello che c'è da fare. Bene, arrivati a questo punto, come dicevo, questo è un video solamente di saluto e augurio a voi e alle vostre famiglie. E con quella che io vi ringrazio per il vostro supporto, la vostra presenza, con un like, con un'iscrizione, con i commenti, vorrei fare dei ringraziamenti anche a delle persone. Perché faccio questi ringraziamenti delle persone in più, diciamo? Perché queste persone hanno avuto il piacere, e per me è un onore, di aver condiviso dei nostri video sulle loro pagine Facebook, sui loro gruppi e quant'altro. Allora, inizio con Davide Benfenati. Davide Benfenati ha condiviso il nostro video. Lui è l'amministratore della pagina Angry Wheels su Facebook. Ha un blog ruotefarmate.com e il canale YouTube di Angry Wheels. Sul canale è fermo già da qualche anno, perché non ha niente da raccontare. Magari in futuro, chissà, tornerà. Voi andate a dargli un'occhiata allo stesso. Poi c'è Alessandro D'Agostino, sempre presente, con i commenti. Nelle premiere ho visto. Mi mandava nelle premiere, non scriveva direttamente sul video, ma mi mandava il messaggio via WhatsApp e mi scriveva. E lui è sempre presente. Grazie, grazie mille. Mulone. Mulone per casa del Trieste. Poi, il Simone Furlan, anche lui, sempre presente, sia nei commenti, nelle condivisioni dei video. Grazie, grazie. Stavo dimenticandomi. Sia Simone Furlan e Alessandro D'Agostino hanno un canale YouTube. Sono due canali piccolissimi e fanno dei video ogni tanto. Magari date un'occhiata, in fiducia, mettete un iscriviti e speriamo che nei prossimi mesi possano fare qualche video o più. Alessandro è Alessandro NPD, se non ricordo male. E Simone Furlan è Simone Furlan su YouTube. Poi, ringrazio anche degli esposti Andrea, che è il moderatore, insieme ad un'altra persona, del gruppo Facebook di Motorhome Italia. Ha condiviso il nostro video dei soldi. Grazie Andrea. Grazie mille. Vedi che mi sono ricordato. E poi, un canale YouTube che ha condiviso il video nostro, sempre quello dei soldi, se non ricordo male, è Cuore Zingaro. E ringrazio anche lui. Poi, c'è anche Walter McClausic, che lui condivide di più i nostri articoli del blog, ma questa volta aveva condiviso il video dei soldi. E lui è l'amministratore dei gruppi camperisti friulani, o collabora, adesso non ricordo bene, e anche sempre del gruppo Facebook camperisti friuli Venezia Giulia, fuori di puerte, in Furlano, fuori di porta, praticamente sarebbe. Quindi, Walter, grazie mille anche a te. E poi, devo ringraziare anche, stavolta li ho scritti tutti sul bigliettino, se non me lo scordavo, l'amico Giancarlo Fusco, che lui, oltre a condividere gli ultimi video che pubblichiamo, sta condividendo ancora i video, qualcuno della Panda, qualcuno del Veccio, e devo dirvi a tutti quanti, grazie, grazie mille. Prima di chiudere, vorrei tornare al ringraziamento a Simone. Perché dico Simone? Di Simone Furlano, e avevo già parlato altri più volte nel video, lui è il titolare della New Promotion, e quell'azienda che realizza capellini, magliette, e quello che ho fatto fare qualche settimana fa, che vi ho fatto il video, lo metto qua sopra, così lo vedete, e mi ha realizzato le felpe e le t-shirt. Una decina di giorni fa mi ha chiamato, mi ha detto, Max, ho una sorpresa per te. Mi fa, dimmi quando sei a casa che ti mando un pacchettino, devo mandarti un pacchettino assolutamente, ho a casa o in azienda. Così mi fai sapere cosa ne pensi. mi è venuta un'idea. Ho detto, Simone, guarda, noi dovremmo essere a casa a quel periodo lì, più o meno, l'indirizzo ce l'hai, dai, manda il corriere e via. È arrivato il pacchettino qualche giorno fa. E già quando ho visto il pacchettino, ho detto, ma cosa c'è qua dentro? Cioè, era un bel pacchettino così. Poi c'era scritto fragile. Vabbè, ho detto, chissà, mi ha mandato Simone, ho detto, apro il pacchettino, ragazzi, e devo dire, che mi ha lasciato a bocca aperta, veramente sorpreso a me, la Lucy. Ha realizzato la tazza del Max, il vecchio van life. Da una parte c'è il daily 4x4 e da una parte siamo io, la Lucy. Che dire, veramente, veramente fantastica. Siamo rimasti sorpresi, l'ho chiamato subito, era impegnato, ci siamo sentiti la sera e devo ringraziarlo. E mi raccontava che aveva visto altri youtubers che si fanno le magliette, le t-shirt, però vedono che tanti hanno le loro tazze. E quindi ha detto, perché non facciamo anche per il Max la Lucy? E quindi ha realizzato queste tazze, devo dire, veramente, che sono spettacolari, le stiamo già usando. E quindi, grazie, grazie mille, ancora Simone. è veramente spettacolare. Beh, di Simone sapete già tutti i riferimenti, magari scrivo sotto ancora i suoi ricapiti se avete bisogno di lui per realizzare qualcosa. Devo dire che è veramente, veramente in gamba. E poi, se volete avere la tazza del Veccio, contattate direttamente lui e lui ve la realizzerà. Mi diceva che se volete avere la tazza solo con il daily la scritta Max il Veccio, la foto della Lucy e me non la mette. Quindi vi sposta in mezzo il daily e vi fa la tazza. Oppure, mandate un file vostro e lui sarà ben lieto di accontentarvi e di venire incontro. Bene, penso di avervi detto tutto. Anzi, prima avevo accennato qualcosa di Junior, forse no, forse sì, forse no. Allora, come avete visto nei video precedenti, la Lucy stava tramando che vuole il van, vuole quello, vuole quell'altro. io la sto cercando di dissuadere, si dice, sì, la sto cercando di fargli cambiare idea perché per me non sarebbe un problema il furgone anche perché ho il progetto del daily però lei vuole molto probabilmente work in progress come si dice eviteremo al corrente di tutto. Io con questo vi ringrazio per aver visto questo video, vi faccio nuovamente gli auguri di Buona Pasqua, anche Lucy li fa da parte sua e noi ci vediamo venerdì con il video di Marano Lagunare. spero perché devo chiudere questi lavori qua prima se no li metterò al sabato vediamo. Io con questo vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti! e benvenuti sul mio canale già non viene Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale che dirvi? Youtube ruota famate no il sito rifacciamo